Contro la Lazio decisa e ordinata, il Milan ha avuto rare occasioni, la prima se l'è costruita Mussi con un tiro che per poco non ha sorpreso Martina. Gullit si è visto abbastanza, giocando circa un'ora, ma non è ancora a posto, da un suo appoggio la girata di Virdis. Sa di biliardo e carambola l'azione che partita da Gullit con scambio Virdis-Ancellotti termina con pallone deviato sul palo. Martina recupera con fatica. In contropiede la Lazio potrebbe creare problemi ai campioni, qui Rubens Sosa insiste però troppo nel dribbling. Milan ha corto di benzina di idee nella ripresa, buono solo all'inizio, parata sui piedi di Maldini. Spunto di Evani che finalmente entra in area palla al piede ma non riesce a centrare la porta. Dopo questa azione da vedere ancora un tentativo rosso-nero con palla per Ancellotti che tira altissimo. Da questo minuto in poi portieri inoperosi con dominio territoriale del Milan e Lazio che pare evitare lo spunto decisivo accontentandosi del pari. Ma è stata una partita difficile perché abbiamo incontrato una squadra molto ben organizzata, guerrita, concentrata. Direi che molto probabilmente per vincere dovevamo giocare con un'altra velocità e un'altra determinazione. Non avendo giocato con questa velocità e con questa determinazione credo che il risultato di pareggio sia anche il risultato giusto.